vabbè, famo la full super san 4 mettiamo giusto lei Charger X è vero, la fa sempre diciamo Mr.Labbit ce la faremo dai grazie Ananasso per i 28 vai, fai la terza ah, finalmente prima non l'ho fatta ma hanno rovinato la rama ok Broly, anche Free dovrebbe farsi 6 milioni 5 e mezzo ti prego fai un hub a posto andata mamma, quando mi hai rotto il cazzo mo se non fa 3 special ok no ma me lo sento mo se tutto va bene la chiude vegeta allucinante ma come volevo pullare stasera come volevo pullare se manco manco se in queste piccolette si riesce a sculare critta bucchini mamma ah l'avevo detto l'hai chiuso l'hai chiuso la vegeta mamma mia mamma mia ah